Ciao a tutti ragazzi, sono Kenren, Wasband, Bimbrain, Wimbrain In realtà questo video già è stato registrato una volta, ma senza audio Quindi lo dobbiamo riregistrare in modo da far capire cosa sta succedendo Allora, stamattina è uscito delle nuove informazioni su un nuovo gioco che uscirà per fine 2022 Tsubasa Rivals Tsubasa Rivals ha un piccolo sì, ma ha un piccolo ma Il piccolo sì, il piccolo ma è che Tsubasa Rivals andrà ad utilizzare tutti gli asset grafici di Capitano Tsubasa Dream Team Questo non significa che la KeyLab sia un investitore principale Ma che sia stata pagata e faccia parzialmente parte del progetto Il gioco si basa sugli NFT, sulle Cryptocurrency Non sono cose che mi interessano, non sono cose di cui andrò a parlare Perché non ne sono bene a conoscenza Quindi non voglio parlare di come un gioco del genere possa basarsi su queste valute Se io non conosco queste valute bene nel, diciamo, in primo luogo Ok, quindi le cose che vi voglio far notare è che Tu dici Fabio perché pensi che KeyLab c'entri qualcosa? Iniziamo ad andare a vedere un po' le informazioni Uh, vi ricorda qualcosa? Questo artwork vi ricorda qualcosa? L'avete già visto da qualche parte? Ok, ora tutto il sito è stracolmo di informazioni su come sarà il gioco Che onestamente andando a leggere non vi consiglio di andare a guardare Perché è un semplice pago su pago su pago su pago Cioè tu paghi per avere il giocatore per una settimana Dopodiché scompare Paghi per avere un giocatore premium Tipo ci sono i portieri premium Paghi un tot di euro, di NFT, quello che sia, di criptocazzo E dopo un tot di tempo ti scompare Quindi dura giusto un tot Un po' come i giocatori che vanno fuori meta Però possono andare fuori meta e rimangono nell'inventario e scompaiono Vabbè, comunque te lo lasciando sta storia C'è tutto un mercato sulle cripto, sugli NFT Non l'ho visto, non lo voglio usare, non mi interessa Girando un pochino nel sito, siccome ve la faccio breve Girando un po' nel sito si trovano artwork di questo tipo Che penso che sapete tranquillamente questa artwork da dove vengono Morisaki e Genzo sapete tranquillamente Il portiere premium si può comprare per 160 ore Ebbè, dopodiché scompare Il normale lo potete tenere quanto volete voi Un mini artwork nascosto sul sito Questo è un po' inedito Ma comunque è sempre relativo a Dream Team Questa è l'unica cosa un po' più inedita Se andiamo a vedere un pochino nelle carte Quindi se andiamo a girare un pochino sul sito Troveremo, ragazzi, questo video lo sto facendo veloce veloce Perché devo scendere Il video di prima l'avevo un po' costrutturato Un pochino meglio Ma purtroppo ho cannato con l'audio Quindi lo sto rifacendo da zero Ok, se andiamo a vedere qua Noterete subito Quindi nell'unico momento in cui C'è una cosa un pochino che spiega più cose Noterete che le carte Sono le stesse di Dream Team In questo caso noteremo Misaki World Cup 2018 Ma con la maglia della nazionale giapponese Noteremo Snyder Noteremo Snyder Dream Festival 1.0 Noteremo il Tashibana DF Noteremo Yuga DF Noteremo Naturizza DF L'unica cosa che è cambiata è lo sfondo C'è letteralmente è cambiato solo lo sfondo Poi è tutto identico C'è lo sfondo si è cambiato Ma poi il resto è tutto fottutamente identico Ora voi direte Ok, questi sono tanti punti che collegano alla Kelab Hai ragione Ho ragione Ma Ma C'è ancora dell'altro Che ora andiamo a vedere C'è ancora dell'altro La pagina creata stamattina Uscita stamattina Di Capitan Tsubasa Rivals È stata Ritwittata Dallo stesso profilo ufficiale Della Kelab Che sponsorizza i propri giochi Come Bleach È stata ritwittata ormai 5 ore fa E lo vediamo in questo preciso momento Kelab PR Pagina verificata e certificata Quindi non una pagina fake Ha ritwittato stesso loro La pagina di Capitan Tsubasa Rivals Perché avrebbero dovuto mai fare una cosa del genere Se non ci sono dentro Con le mani nella pasta Perché loro fanno parte del progetto Se si cerca su Google Si troverà che c'è anche il nome di Kelab Tra Diciamo Tra le compagnie che sono in questo progetto Ma Andando ancora di più a scavare nella situazione La parte divertente è che anche la Nankatsu Anche il profilo ufficiale della Nankatsu Ha condiviso Ha condiviso Ormai sto andando proprio wild Ragazzi devo scappare Insomma Ha condiviso anche Anche loro Il sito di Tsubasa Rivals Allora Questo gioco per me sarà un fallimento Di dimensioni epiche Sarà uno dei giochi Che sarà ricordato peggio Di Rise of New Champions Rise ha fallito Ok Questo fallirà 100 volte peggio Però tutta questa storia Che ci sono Tutti gli asset Grafici Di Dream Team Almeno per ora sappiamo I modelli delle carte Cioè sappiamo Gli artwork delle carte Non sappiamo se anche I modellini in gioco Però questo Farà parlare tantissimo Perché qua Kelab Non ci sta facendo una bella figura Certo Davanti al denaro Dio Cristo Davanti al denaro Tutto fa gola Assolutissimamente Davanti al denaro Tutto fa gola Però c'è anche da dire Che a parer mio È una grandissima figura di merda Vedremo questo Vedremo tutto questo Come andrà a finire Tutta questa storia Come andrà a finire Cosa succederà E cosa non succederà Però ad ora In questo momento Specifico In questo momento Ad oggi È un gioco Che deve uscire Per il 2022 Entro la fine Quindi già siamo Alla fine del 2022 Ormai siamo verso la fine Quindi significa che Entro dicembre Questo gioco deve uscire La stessa cosa vale Per Tsubasa Ace Di cui non si sa più niente Quindi anche Tsubasa Ace Deve uscire Per la fine del 2023 Quindi 2022 Quindi dovrebbero uscire Due giochi insieme Di Tsubasa Di cui secondo me Tutte e due Saranno due miga fallimenti Certo Ora che Dream Team Ha dei prezzi assurdi Diciamo uno Si può guardare in giro Magari Tsubasa Ace Può essere una mini soluzione Ma di certo non questo Perché questo si basa Tutto sui soldi Quindi se tu vuoi scappare Da Dream Team Per una Per una situazione Economica O quel che sia Quest'altra tipologia Di gioco Non te la scampi C'è Qua compri carte Le compri in prestito Scambi Fai Ma tutto con soldi Poi Non sapendo bene Come funziona il tutto Per ora voglio stare zitto E puoi anche vendere Le tue carte E le puoi anche comprare Qua ti dice anche Che c'è una commissione Del 6% Quindi Diciamo che Tutto un altro mondo Paragonato a quello Che siamo abituati È tutto un altro mondo Dice che c'è anche Un modo di guadagnare Però Oddio Il modo di guadagnare È Teoricamente Da come parla il sito È battere gli avversari Come fai Facciamo il caso Che io becco Un giga arabo Perdo Perdo soldi Perdo soldi Cioè Vabbè Non lo so Non lo voglio sapere Per ora Gli artwork Ok Sono Questo è un artwork Molto carino Anche se comunque È stato Un artwork Che probabilmente Era infermo Per Dream Team L'hanno Poc L'hanno messo insieme E è fatto Anche perché Se si guarda bene L'immagine Comunque Sono artwork Di Dream Team Cioè Gli artwork Sono gli stessi Quindi Alla fine I disegnatori Sono gli stessi Avranno prestato Avranno venduto I disegnatori Non lo so Cosa hanno fatto Fatto sta Che comunque Hanno venduto Tutti gli asset Delle carte Quindi Tutti gli artwork Delle carte Non si sa Se anche i modellini In gioco Sono stati venduti Ma la situazione Almeno Per me Almeno per me Qua Anche qua Vediamo In piccolino Che già l'abbiamo visto prima Vediamo Vediamo Sia Yuga Che Natureza Dream Festival 1.0 Online Piccolino Quindi ci sono Un sacco di carte Di Dream Team C'è anche Santana Da qualche parte Qui sperduto Però ora Non ho il tempo Di andarlo a trovare Ci sono Ci sono Tutti Ci sono tutte le carte Riproposte Semplicemente Con uno sfondo Diverso Quindi la situazione È questa Che l'abb Non è La compagnia Che ha questo gioco Ma è la compagnia Che ha venduto Gli artwork In parole povere La situazione A me non piace Non penso Che sia un gioco Che andrà avanti Però sicuramente Tutto questo Farà parlare Farà un po' Di scandalo Già la gente Pensa che Dream Team Possa chiudere Questo non farà Altro che dare Un altro piccolo Chiodino Nella bara Dream Team Non chiuderà Ma Questo sarà Un qualcosa Che creerà Uno scandalo Un qualcosa Per cui parlare Ragazzi Dream Team Non ha motivo Di chiudere Anche perché Sono due giochi Totalmente differenti Questo gioco Secondo me Non ha nessuna possibilità Di competere Sul mercato Proprio per come Strutturato O almeno da quello Che sto leggendo Poi magari Lo analizzeremo Più avanti Con più informazioni Perché per ora Di informazioni Non è che ce ne sono Tantissime E nada Questo Questo era Quello che volevo dire Anche nel video Di prima Oddio Vedremo cosa ne uscirà Ma non promette Niente di buono Per Essere umani Normali Che non girano in Ferrari Onestamente parlando Poi Il futuro Vedrà Se ho ragione O non ho ragione Per questo video Todos Spero di aver dato Abbastanza informazioni Per farvi capire Che cazzo Sta succedendo E ci becchiamo Ah vi ricordo Che siamo tutti i giorni Live su Twitch Tutti i giorni Non uno Siamo tutti i giorni Quindi E c'è anche il canale Telegram Che trovate in descrizione Se volete fare due chiacchiere Quindi passate su Twitch Passate su Youtube Passate da per tutto Entrate a far parte Della family Un bacio Grazie a tutti i giorni